Oggi è un grande ostacolo alla concretizzazione, anche sul piano dei principi, del diritto alla salute, perché dal 1980 le nostre classi dirigenti hanno approvato una legge che consente a soggetti privati a scopo di lucro di diventare proprietari assoluti delle conoscenze e delle tecnologie legate ai medicinali e in particolare ai vaccini. I signori oggi della salute sono le imprese multinazionali che detengono i brevetti sul vivente. Il potere politico non decide più. Ed ecco perché se vogliamo concretizzare il diritto alla salute universale per tutti bisogna rivedere il regime della proprietà intellettuale, cioè abolire i brevetti privati a scopo di lucro sul vivente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.